Il nuovo amore per l'Odie di Patrizzi, anche se in realtà si tratta di una persona che sembrerebbe essere tornata dal passato. Secondo quanto riportato dal sito Isa e Chia, infatti, la cantante lanciata da HMICI non farebbe più coppia con Lele Esposito, anche egli concorrente della quindicesima edizione. Quella che li fece conoscere e innamorare. I due si sarebbero nuovamente lasciati dopo una crisi? Che sembrava superata e ora, come testimonia una lettrice della testata, Elodie sarebbe tornata tra le braccia del suo ex, il DJ Andrea Maggino. Si legge sul sito. Elodie, il ritorno con Nero Bali. Intanto la cantante Salentina si gode i buoni riscontri del suo nuovo S.I.N.G.O.L.O. Nero Bali pubblicato il 18 maggio, e che la vede duettare C.O.N.D. Pequeno e Michele Bravi. A tal proposito Elodie ha dichiarato. Elodie di Patrizzi, com'era e com'è. Da X Factor ad Amici nel 2008 alle selezioni di X Factor nel 2016 ad Amici di Maria De Chilitti nel 2015 e in una locandina per una esibizione con i Jazz Quartet. La sua vecchia pagina su Miss Facei è il momento del rinnovo della tinta fucsia di e in un'unità per un'unità per una esibizione con i Jazz Quartet.